Non potete vincere, Flash. Siamo deboli, ma lo siete anche voi. Il che significa che possiamo resistere a qualunque vostro attacco. Potrebbe essere la nostra sola occasione, ma ho bisogno che le teniate qui mentre io mi preparo. Devo cedere. No, mamma, non farlo. Se voglio vedere cosa succede, è l'unico... Iris, aspetta! Non sei tu, Lavadar. Il tuo essere qui va a far renderci deboli. E tu dovrai pagare per quello che hai fatto. Che cosa fai? Quello ci serviva per trovare Iris! Dei sacrifici sono indispensabili. No, il sacrificio non è Ton. Non lo è mai stato. Non lo è mai stato. Il vero sacrificio sono... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Heobert! No! Heobert! Ehi! Sta indietro! C'è qualcosa che non va! Ma che cosa gli sta succedendo? Grazie per la resurrezione. Grazie a tutti.